Musica Benvenuti a Salute e Benessere, un altro appuntamento con i componenti della farmacia Scarponi di San Costanzo, Gianluca e Sara per ancora entrare più nel dettaglio con i servizi e con quanto mettono a disposizione della propria clientela, perché è questo che tratteremo in questo appuntamento, dei servizi che sono all'interno appunto della farmacia, per cui se venite qui per un qualsiasi motivo, una ricetta, qualche cosa, sapete che c'è anche a disposizione un panel completo, completissimo, di servizi che possono essere a disposizione della clientela, giusto Gianluca? Esatto, come dicevamo la puntata scorsa, noi siamo più bravi a curare i sani che i malati, quindi offriamo un insieme di test diagnostici e di servizi in generale, per far sì che il cliente sia, diciamo, vogliamo prevenire invece che curare, ecco, diciamo senza ripetere tutto il discorso dell'altra volta, abbiamo analizzato quelle che sono un po' le esigenze, le richieste maggiori da parte della clientela, sia di San Costanzo che in generale, partendo ovviamente anche da qualche dato. Uno dei primi che ci è saltato all'occhio ha a che fare assolutamente con il benessere cardiovascolare, perché secondo l'Istat la mortalità maschile nel 35% dei casi è causata da un problema di tipo cardiovascolare, percentuale che cresce in quella femminile che arriva fino al 43%. Aggiungo questo dato così di colore, questo succede perché la vita media delle donne è leggermente più lunga, e allora questo identifica perché l'aumento della percentuale. Esatto, d'altronde le donne non hanno una moglie, quindi vivono più a lungo. Un fattore di stress in me. Vabbè, mio diranno in questo caso. Comunque, il benessere cardiovascolare, essendo una delle cause abbastanza importanti a livello di decesso, purtroppo, nel nostro paese, abbiamo stabilito sicuramente di prendere in esame questo tipo di patologie per prevenirle. E tra i diversi servizi che abbiamo messo in atto, i servizi di esami che abbiamo, il primo di questi è il classico, tra virgolette, elettrocardiogramma. L'elettrocardiogramma non è che ha bisogno di tante presentazioni. Noi abbiamo cercato di presentarlo, di offrire in una chiave un pochino più moderna, scegliendo un apparecchio che ha all'interno un computer direttamente collegato a internet, per cui, in tempo reale, come viene effettuato l'elettrocardiogramma della persona, questo apparecchio spedisce via internet, in collegamento con un ospedale cardiologico, i dati dell'elettrocardiogramma. Nell'arco di 10 minuti e un quarto d'ora noi riceviamo, via mail, il referto cardiologico. Quindi da un'altra parte d'Italia, in un ospedale cardiologico, c'è un cardiologo che riceve i dati del nostro elettrocardiogramma, li analizza, li vede, digita il referto e ce lo rimanda indietro. Quindi nell'arco di pochissimi minuti siamo subito in grado di dare una risposta al cliente. Questo è un po' una novità interessante. Interessante. Allora, Sara, le mogli non c'hanno... Le mogli c'hanno i mariti, però. Diciamo, facciamo un po' di parcondicio. Facciamo un po' di parcondicio. Ognuno si occupa di aree, il segreto è anche quello. È anche quello. Il segreto è un po' le aree di gestione, insomma. Però la pressione può salire. E in questo caso, insomma, la misuriamo. La misuriamo. Questo diciamo, forse è un servizio già, che è decenni, che c'è in farmacia, quasi in tutte le farmacie. Noi, oltre però a misurare la pressione, abbiamo un apparecchio che può mettere anche in evidenza quella che invece è la fibrillazione atriale. Anche questo, se si va a vedere un po' le indagini su quanto riguarda l'area cardiovascolare, è una causa di danno per il cuore, in quanto ci sono circa 400.000 nuovi casi all'anno solo di questa fibrillazione atriale, che può portare fino all'ictus. Può essere una delle case dell'ictus. Quindi il nostro apparecchio per la misurazione della pressione mette in evidenza anche più o meno la presenza di questa problematica a livello cardiaco. E tra le altre cose abbiamo anche apparecchi in vendita che danno lo stesso dato, se uno lo vuol tenere a casa come apparecchio per la misurazione della pressione, diciamo, casalinga. Se poi il medico lo ritiene opportuno, ritiene opportuno moritorare al paziente la pressione durante l'arco della giornata, noi possiamo applicare, mettere addosso alla pressione quello che è l'alter, che è anche questo un normale apparecchio per la misurazione della pressione, però il paziente se lo tiene addosso, lui svolge le sue normali attività lavorative in casa anche durante la notte e la pressione gli viene rilevata di intervalli regolari durante tutto le 24 ore. Quindi torna da noi, prendiamo questi dati, li scarichiamo nel computer, quindi poi diamo questo referto al paziente che poi lo darà al medico per fare le valutazioni opportune. ed è un qualcosa già in più che offriamo. Sempre per quanto riguarda l'area cardiovascolare, abbiamo preso anche un apparecchio per fare le analisi del sangue che sono nient'altro che un prelievo di sangue capillare. In queste analisi che facciamo abbiamo colesterolo, trigliceriti, HDL, quindi anche quello che può essere un rischio cardiovascolare calcolato insieme al dato della pressione. E in più facciamo anche glicemia, corpi chetonici e acido urico. Oltre ciò abbiamo anche l'apparecchio dell'analisi dell'urine. In questo caso il paziente viene da noi con il campione dell'urine nell'apposito contenitore, nel giro veramente di un secondo, perché l'analisi è velocissima, ottiene 11 parametri, tra cui sempre glicemia, corpi chetonici, il pH, tutti questi parametri indicativi dell'esame dell'urine che ci possono dare altre informazioni che possono essere a livello di qualche disfunzione renale, a livello di infezioni che ci possono essere a livello delle vie urinarie oppure infezioni di vario tipo o glicemia più alta del normale. Ritornando sul sistema cardiovascolare, c'è anche un altro test che voi avete a disposizione, che è un test molto più completo, complesso e anche articolato. Sì, riusciamo a proporre alla nostra clientela quello che si chiama il Cardio Wellness Test. Anche in questo caso abbiamo il prelievo di sangue capillare, dove vengono dosati alcuni parametri, colesterolo, di nuovo, triliceridi, ma anche peptidec, o monocistina. Sono parametri che ci danno quello che è lo stato, in quel momento, del sistema e del benessere del sistema cardiovascolare. Attraverso delle formule matematiche, danno un indice di rischio. Quindi, valutando questo potenziale indice di rischio, è possibile adattare lo stile di vita, l'alimentazione, ma anche attività fisiche, proprio per il proprio fisico, affinché questo indice di rischio possa calare o possa addirittura, sì, possa calare e si possa mantenere nel tempo. Per cui, Gianluca, un risparmio di te, un po' anche notevole da parte del cliente, che ha la possibilità di venire qui e non dover utilizzare altre situazioni per affrontare analisi che il medico gli richiede. Sì, è un aspetto importante, uno di quelli che in effetti, inizialmente, prima che la clientela comprendesse appieno la complessità dell'esame, e quindi anche il risultato che, come abbiamo visto in alcuni casi, è un pochino diverso da quello dei soliti laboratori di analisi o da quello dei soliti, diciamo, fatti negli ospedali, quindi è una cosa un pochino diversa. Questo è uno dei primi aspetti. Quasi tutti questi esami sono fattibili senza prenotazione. Noi consigliamo di fare una telefonata, perché magari può esserci un attimino, c'è la mattina che c'è un po' più di confusione, un po' più di gente, di file, eccetera, allora magari conviene sempre, però in linea di massima questo è uno dei punti salienti, insomma, di questi esami, di questa caratteristica. Il sistema gastrointestinale è un altro sistema del nostro corpo umano che voi avete preso in considerazione nei vostri servizi. Una volta completato, risolto, quello che è il panorama dei servizi legati all'ambito cardiovascolare, abbiamo pensato di dedicarci al sistema dello stomaco e dell'intestino. È un'area importante del nostro corpo, non a caso l'intestino viene chiamato anche il secondo cervello. All'interno dell'intestino c'è la stragrande maggioranza di quelle che sono le nostre difese immunitarie, quindi è importante mantenere l'intestino in regola. È anche uno dei punti insieme allo stomaco dove spesso e volentieri si vanno ad annidare quelle che sono le patologie e disturbi psicosomatici, quindi a volte anche operare su questi può aiutare. Essendo anche comunque un insieme di analisi che va a prevenire e a valutare diverse patologie o disturbi, sicuramente tra i più numerosi, dal mal di stomaco, la disbiosi intestinale, piuttosto che altre problematiche legate comunque alla digestione o anche a una cattiva alimentazione, che spesso è comunque una delle prime problematiche. Basti pensare alla stipsi, sicuramente causata a volte dal basso consumo di frutta e verdura piuttosto che altri prodotti. Per cui abbiamo deciso di dedicarci a questo aspetto. Come nel caso del sistema cardiovascolare, abbiamo quindi valutato una serie di analisi e di test da proporre alla clientela per tenere in ordine questo sistema del nostro corpo. L'intestino, sistema gastrico, viene facile agganciarsi alle intolleranze alimentari, che sono anche queste una nuova frontiera, non solo della medicina, ma anche della diagnostica. Cioè, si sono stati fatti passi da gigante in questo senso. Sicuramente, perché la ricerca, in questo caso, dell'alimento che ci fa star male è fondamentale per riuscire poi a risolvere il disturbo. Anche qui abbiamo scelto un test per le intolleranze alimentari preciso e affidabile, perché ce ne sono diversi proposti, però abbiamo ritenuto necessario sceglierne uno che si basi proprio sul, anche questo sul sangue. Torniamo sempre al solito discorso del prevo capillare, ma questo qui è preciso perché viene proprio dosato un parametro, una reazione che l'alimento provoca nel nostro organismo. Quindi non si vanno ad applicare test sulla pelle o altre cose che ci possono essere in giro. Qui noi valutiamo proprio un parametro certo nel nostro sangue. Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere quale alimento può provocarci una reazione. Quindi l'alimento viene identificato, perché di solito poi quando si parla di intolleranze si parla di disturbi legati all'accumulo di questo cibo. Quindi conoscendoli si può variare la propria dieta, la si può personalizzare in modo tale da eliminare o ridurre, a seconda del caso, l'alimento della nostra dieta. Noi offriamo questo test e con questo test è possibile dosare da 46 a 92 fino a 184 alimenti. Alimenti. Quindi abbiamo una bella mappatura. E così le persone possono anche migliorare il loro stato di salute, visto che spesso non c'è proprio... L'alimentazione è la prima cosa su cui uno può andare alla gira per stare meglio. Certo. C'è anche un altro test che riguarda l'aria gastrointestinale. È il nostro disbiosec. Tramite questo possiamo valutare lo stato del nostro intestino quando ci possono essere presenti gonfiori addominali, coliti o anche disturbi maggiori. Grazie a un campione delle urine si vanno a valutare dei parametri che possono dare indicazioni dello stato della nostra flora batterica che, come è stato detto prima, è fondamentale per il benessere del nostro intestino. Anche qui, se sono presenti alterazioni, è possibile suggerire al paziente l'utilizzo di fermenti lattici specifici, prebiotici o probiotici per ripristinare il giusto funzionamento del nostro intestino e naturalmente vivere meglio. Ci sono anche degli strumenti proprio diagnostici che voi mettete a disposizione noleggiandoli se uno ne avesse necessità. Questo è un altro servizio aggiuntivo che date alla vostra clientela. Sì, dunque, gli strumenti diagnostici ci sono, sono in realtà pochi perché nella nostra grande maggioranza tutte queste analisi vengono effettuate con un prelievo capillare, salivare o di urina a seconda della tipologia di analisi e poi comunque noi li mandiamo in laboratorio. La buona parte degli apparati elettromedicali che noi abbiamo la possibilità di dare a noleggio sono più di tipo terapeutici o di controllo generale oppure di, diciamo, di normale utilizzo, diciamo l'esempio, che ne so, il tiralatte nel caso della mamma con il bambino piccolo, le stampelle piuttosto, diciamo, uno dice perché devo andare a comprare, si spera insomma che l'inizio di stampelle sia temporaneo a seguito di un infortunio, un aerosol, piuttosto che, diciamo, anche qui magari fare un acquisto di un certo tipo. Si parlava l'altra volta dell'inalatore delle acque termali, quindi anche questo per fare un certo tipo di terapia o la bilancia per lasare i neonati. Mentre invece una cosa molto interessante, a mio avviso, che è un po', anche questa una piccola novità, abbiamo fatto un accordo con un'azienda che ha tutta una serie di apparecchi elettromedicali per fare delle terapie di tipo fisioterapico. Sono apparati che normalmente costano diverse migliaia di euro, apparati che ovviamente è impensabile andare a acquistare per fare una terapia di 10-15 giorni a casa, apparati che spesso si è costretti a spostarsi, andare in uno studio con un professionista che ti prepara la macchina, ti sistema il posizionamento, della sonda piuttosto che quello che insomma è lo strumento che vado ad utilizzare per andare a fare quindi la terapia sull'arto, sul muscolo, sul tendine, sul nervo, eccetera. In questo caso abbiamo fatto questo accordo con questa azienda che lei è proprietaria di questi strumenti, stiamo parlando di apparecchi per fare elettroterapia, presoterapia, magnetoterapia, ultrasuoniterapia o fisiotek, quindi sedute che di solito costano dai 10-20 anche 30 euro a seconda della tipologia di apparato. Quest'azienda, praticamente il cliente viene qui da noi, noi prendiamo i dati, si fa quella che è la parte tecnicamente meramente burocratica, noi spediamo all'azienda i dati, l'esigenza, tutto quello che serve, l'azienda si occupa di spedire direttamente a casa del cliente l'apparato che lui ha richiesto, quindi l'ultrasuoniterapia, la magnetoterapia, eccetera, il cliente apre l'imballo, trova quest'apparato, ci sono tutte le spiegazioni su come utilizzarlo, quindi si fa la terapia a casa sola. Quando ha finito, rimballa il tutto, lo porta qui da noi in farmacia, noi chiudiamo la pratica, il corriere poi se lo viene a ritirare. Laddove ci sia bisogno di una consulenza, c'è un numero di telefono verde, al quale lui 12 ore al giorno telefona e lui gli dicono esattamente come mettere l'apparato, ovviamente tutto è corredato da un manuale, completo di fotografie, e tutto quello che sia, però laddove comunque ci sia un'esigenza di questo genere, loro hanno questo tipo di situazione da mettere in vita. Quindi il vostro cliente che usufruisce di questo servizio non viene abbandonato a se stesso, ma ha comunque un numero di riferimento al quale può chiedere e esporre anche i propri dubbi, se ce ne fossero. C'è un altro test importante, che sono gli analisi ormonali, giusto? Sì, questo ne facciamo parlare a Beatrice. Facciamo parlare a Beatrice, conosciamo quindi un'altra collaboratrice della farmacia Scarponi di San Costanzo che ci parla dei test ormonali. Allora, i kit per le analisi del profilo ormonale che noi utilizziamo in farmacia, di cui questi sono alcuni kit, sono analisi che abbiamo scelto innanzitutto per la loro semplicità, quindi perché possono essere facilmente eseguiti in farmacia, e inoltre perché, nonostante un'elevata attendibilità, sono kit che hanno un ottimo vantaggio, un ottimo rapporto qualità-prezzo. In questo caso, i prodotti che abbiamo scelto, li abbiamo scelti per permettere al paziente di andare ad analizzare alcuni aspetti relativi alla propria salute che normalmente non vengono presi in considerazione. Questi kit infatti ci permettono, a differenza di tanti altri esami, di andare a valutare i livelli ormonali, di alcuni ormoni importanti. Gli ormoni innanzitutto sono dei messaggeri, delle sostanze che permettono di scambiare messaggi all'interno del nostro organismo fra le cellule. Questo permette ovviamente un adeguato funzionamento sia degli organi che dei tessuti. Nel momento in cui questo insieme di ormoni, quindi questo insieme di messaggeri, si squilibra, quello che capita è che le cellule del nostro organismo non comunicano più fra di loro in modo adeguato. Questo può portare alla comparsa di una serie di sintomi a seconda ovviamente dell'ormone che viene coinvolto e di conseguenza una serie di problematiche per il paziente. I kit che utilizziamo sono di vario genere, di varia tipologia a seconda di quelle che sono le necessità del paziente. Fra i più comuni, fra i più utilizzati in questo caso, quello che abbiamo sono il profilo dimagrimento basic, estremamente importante non solo per chi sta già affrontando una dieta, ma anche per chi, nonostante abbia già intrapreso una dieta, un regime alimentare controllato, manifesti ancora delle notevoli difficoltà nella perdita di peso. In modo particolare diventano importanti per chi, oltre a sovrappeso, presenta altri sintomi, come ad esempio affanno oppure apnee notturne. In questo caso vengono ad esempio presi in considerazione ormoni come l'insulina, il glucagone e gli ormoni tiroidei. Altro kit piuttosto importante e che coinvolge un numero piuttosto ampio di persone è il profilo stress. In questo caso è un kit che può essere utilizzato e spesso viene richiesto da tutti coloro che manifestano difficoltà di concentrazione, in modo particolare chi ha fattori di stress che possono spesso essere correlati allo stile di vita e ai ritmi di vita che stanno diventando abbastanza comuni, quindi frenetici e piuttosto disorganizzati. Un altro tipo di kit che raccoglie una categoria forse un pochettino più ristretta di pazienti, ma comunque molto diffusa, è il profilo sport. In questo caso adatto non solo a chi fa sport a livello agonistico o professionale, ma anche a chi lo fa a livello amatoriale. Anche in questo caso lo scopo di questo kit è quello di andare ad analizzare alcuni ormoni particolari e attraverso i risultati ottenuti permettere al paziente, ovviamente tramite l'intervento di un medico specializzato, di andare a creare un allenamento adeguato ed evitare quello che viene definito overtraining, cioè un allenamento inadeguato, eccessivo, che non porta più beneficio al paziente, ma al contrario può fare anche dei danni. Altro kit che riguarda però di solito una fascia di età un pochettino diversa è il profilo donna in menopausa o anche il profilo uomo. In questo caso gli ormoni che vengono considerati sono ovviamente di diverso tipo, ma testosterone, gli estrogeni, il progesterone, tutti ormoni che riguardano la vita dell'uomo e che sono fondamentali. In questo caso vengono richiesti soprattutto da quei pazienti che nel corso del tempo iniziano a manifestare sintomi, come ad esempio aumento pressorio, calo del desiderio, sudorazioni improvvise e che necessitano di verificare, diciamo così, in quale fase della vita si trovano in un determinato periodo, in un determinato momento. L'ultimo kit, non meno importante comunque, è quello della buonanotte. In questo caso l'ormone che si va a valutare in modo particolare, ma non solo, è la melatonina. Questo è un neuroormone fondamentale per regolarizzare il ciclo di sonno e di veglia. Quindi i pazienti che per lo più richiedono questo tipo di test sono coloro che manifestano delle difficoltà nelle fasi del sonno, difficoltà ad addormentarsi, insonnia notturna, o che comunque sono sottoposti ad un periodo particolare di stress psicofisico che in qualche modo va a inficiare un adeguato sonno e quindi un adeguato ritmo di vita. Un altro test importante che si può fare nella farmacia Scarponi di San Costanzo è il test per il DNA. E ce ne parla Francesca. Il test del DNA è un test attraverso il quale si vanno a studiare le molecole appunto che compongono il nostro DNA. Attraverso questo metodo possiamo valutare se a livello del DNA ci sono dei geni che hanno subito delle mutazioni, per cui in medicina oltretutto si è visto che alcune patologie sono correlate a queste modificazioni genetiche. Questo è molto importante perché il nostro soggetto che verrà da noi ad eseguire questo test avrà la capacità di capire se ha delle mutazioni genetiche e quindi quella che chiamiamo la predisposizione a una determinata patologia. E' chiaro che dire a una persona di essere predisposto a sviluppare una certa patologia non vuol dire che nel corso del tempo avrà quella malattia ma avrà sicuramente un'alta percentuale, un'alta probabilità di poterla sviluppare. E' chiaro che queste sono delle informazioni molto importanti sia da un punto di vista medico perché ci possono aiutare sia a fare una diagnosi precoce di una malattia e quindi intervenire anche da un punto di vista farmacologico con una terapia mirata a quel soggetto. Sono informazioni però molto importanti anche per il paziente stesso perché sicuramente potrà adottare degli stili di vita comportamentali, alimentari e anche farmacologici migliori per poter ridurre appunto questa probabilità di sviluppare la sua patologia. Questo è alla base diciamo di una nuova medicina che viene definita medicina predittiva. E' un test molto semplice, è un test che si esegue facendo ruotare un tampone quindi prelevando un campione di saliva all'interno della bocca tra la guancia e la gengiva non richiede particolari accorgimenti se non l'astensione al bere e al mangiare e comunque anche l'uso di fumo nei 30 minuti precedenti all'esame. Ovviamente sono dei test che in generale hanno dei costi molto elevati però nella nostra farmacia siamo riusciti ad avere dei costi contenuti grazie proprio al fatto che al laboratorio in cui ci appoggiamo sono loro stessi che producono i macchinari per fare questi test e quindi i prezzi sono molto buoni, molto competitivi. Tra i vari test che possiamo eseguire abbiamo il test alla predisposizione alla celachia che già come dice il termine valuta la predisposizione del soggetto appunto a questa patologia l'intolleranza al lattosio poi abbiamo dei test anche molto innovativi tra i quali il Genokit Slim che valuta la predisposizione all'obesità, al sovrappeso è un aumentato indice di massa corporea il Genokit Cardiorisk che valuta la possibilità di sviluppare patologie cardiovascolari lo Stress Ox Genokit che valuta anche questo la possibilità di sviluppare lo stress ossidativo e infine il Vitamin Genokit molto importante perché riguarda la predisposizione all'osteoporosi. Ovviamente sono argomenti molto innovativi e anche abbastanza complicati per cui qualsiasi persona che ha bisogno di avere delle ulteriori informazioni può venire tranquillamente nella nostra farmacia e cercheremo di essere più chiari possibile. E questi erano i servizi in termini anche di testo o di valutazioni che si possono fare all'interno della farmacia Scarponi a San Costanzo per questo appuntamento è tutto vi rimando al prossimo appuntamento. Arrivederci.